Senti in onda? Va bene. E qua? Allora, mi sento un po' in soggezione. Ma adesso sta già funzionando la baracca. Un'esposizione a sud tra due corone di... tra due corone un cavolo. Poi la ragione, te la diano. Nonno, ma però quei cartoni la ti servono. Sto parlando. Ma ti servono quei cartoni la? Quei cartoni la o li metto la? Porto li fuori, grazie. Stavo iniziando, poi ci sono in terror. E per il paio riserva e la parte finale per il cricquettone. Magicamente. Ciao. Grazie.